ciao a tutti ragazzi sono megaticker e qui a grande richiesta abbiamo il victrix gambit dual core un controller xbox pro che mi avete veramente appunto chiesto in tanti e che oggi andremo ad unboxare insieme e vedere le prime impressioni di questo oggettino si tratta innanzitutto di un controller cablato vi ricordo che attualmente se volete qualcosa di pro wireless per la vostra xbox direi che le due scelte migliori sono l'elite 2 oppure il nuovo scaf che ho recensito di recente se invece state cercando le prestazioni pure quindi input lag ridotto al minimo non vi danno fastidio ai fili eccetera la scelta per xbox veramente molto molto ampia ovviamente poi proverò e testerò questo dual core che promette un'immediatezza una velocità assurda dicono sconosciuta ad altri controller non perdiamoci ad ogni modo in chiacchiere prendiamo il nostro coltello e andiamo a togliere i sigilli ricordo che questo controller costa 99 euro non l'ho mai visto andare in sconto anzi a dire il vero stavo proprio aspettando quello per prenderlo poi alla fine mi sono deciso me lo chiedevate in troppi e quindi eccomi qua ragazzi a spacchettare insieme a voi la confezione confezione che nasconde subito una bella custodia rigida mi piace già molto il fatto che abbiano dotato di custodia il proprio controller all'interno della scatola abbiamo la certificazione dolby atmos ormai sono veramente in tanti nacon forse è stata la prima che attraverso il jack da tre mezzo abilitano l'ascolto appunto nella versione dolby atmos che tanto è apprezzata libricino di istruzione visto che c'è anche l'italiano poi se non capirò qualcosa lo andrò a vedere ma adesso vediamo il contenuto il pezzo forte cerniera bella mi piace questo moschettone guardate che carino molto grosso cerniera che si apre benissimo c'è anche da dire quello perché a volte ci sono delle cerniere che voi le aprite e vi danno l'impressione che vi restino in mano da un momento all'altro apro appunto la mia custodia e subito in alto abbiamo un bel cavo viola telato nella confezione c'è scritto lunghezza tre metri sono contento ovviamente di vedere la type c come attacco come spinotto al controller e qua dentro abbiamo il controller vero e proprio lo spostiamo un attimino avete visto già che ci sono due cover in dotazione se pare in cartoncino va beh questo ok dentro abbiamo le palette vi ricordo che ci sono tasti aggiuntivi potrete decidere se usarne due come in questo caso o usarne quattro come nel caso di default appunto del controller anelli di scorrimento intercambiabili come vedete un po stile gamecube con le direzionalità ottagonali che vengono bene in alcune tipologie di gioco io sinceramente non ho mai trovato un comodo utilizzo croce direzionale che una croce non è ma serve appunto per andare a fare le combo nei picchi a duro e agevolare quei movimenti circolari abbiamo poi due levette intercambiabili viola ormai il tema appunto è quello del viola carino a me piace due sono secondo me un po pochine materiale piuttosto coppetta plastica ma anche abbastanza plasticosa abbiamo solo una concava ed una convessa la concava è alta poi vedremo nell'utilizzo se è troppo alta e la convessa invece è quella normale o comunque bassa si esaurisce qui la confezione o meglio il contenuto della custodia ma andiamo a vedere quindi il controller tirando su subito quella che è la scocca bianca che come si vede è magnetica quindi applicazione a magnete dovrebbe essere quindi semplicissimo andarla a rimuovere dal controller gli altri due anelli di scorrimento come vedete sono circolare vedete che ci sono gli incastri qua probabilmente facendo forza si potranno togliere e mettere gli altri ecco qua basta metterci un dito dentro tirare via questo è l'anello tondo come vedete ha una direzionalità quindi impossibile sbagliarsi nell'inserimento inserimento istantaneo è molto semplice io li tirò sicuramente tondi ma se qualcuno deve giocare qualche gioco particolare e utilizzare quelli ottagonali in confezione abbiamo visto esserci mettiamo un attimo da parte la scocca bianca andiamo a vedere il controller che pare abbastanza leggero mi piace l'impugnatura e questa scocca gommosa che differisce assolutamente da quella bianca appunto per materiali qua abbiamo una scocca guardate morbida gommosa andiamo anzi un attimo a toglierla come vi dicevo è assolutamente magnetico l'inserimento scocca gommosa che da un bel grip una bella sensazione si mette in questa maniera al di sotto del controller grip in realtà non ce ne sono però insomma non mi sembra un controller che tenda a sgusciare a scappare via dalle mani stavo guardando un attimo l'accessibilità dei tasti sotto direi come sempre che due si cliccano molto bene direi questi qua davanti mentre invece quelli da azionare più indietro a me sono più ostici da raggiungere la sentenza finale ve la farò ve la dirò quando l'avrò provato in game ad ogni modo avete visto che c'è la possibilità tramite questa levetta sotto di levare la scocchetta a quattro tasti e in un attimo andare a inserire quella a due tasti facciamo l'inserimento dall'alto schiacciamo verso il basso ecco lì che abbiamo esattamente e solo due tasti beh in questa configurazione due tasti lo sapete bene ormai chi mi segue da tempo l'avrà sentito dire più volte due tasti sono sempre molto molto bene raggiungibili quello che però non mi convince tantissimo è il click del tasto non so se lo riuscite ad apprezzare è un click un po sordo un po mollo non è un click netto ma anche questo poi il giudizio sarà in game per vedere se è un azionamento preciso qui dietro abbiamo la jack da 3 e mezzo come vi dicevo dolby atmos e qua sul retro abbiamo le due levette che servono per ridurre la corsa del trigger l'azionamento è un po differente dal solito non basta cliccare anzi sì in realtà basta cliccare per quanto riguarda invece i trigger stop beh mi sto correggendo avevo girato già un pezzo di video dove avevo detto una certa cosa poi in realtà ho guardato meglio le istruzioni e qua abbiamo una cosa particolare che effettivamente solo questo controller presenta qui dietro abbiamo queste due levette di blocco o di sblocco che appunto azionandole porteranno il trigger stop a lavorare nella posizione più corta possibile ebbene sì noi siamo abituati ad avere i trigger stop di una due tre posizioni come ad esempio nell'elite 2 abbiamo visto anche scaf che ha dato la possibilità di trasformare l'input da analogico a digitale ma qui invece la victrix se ne è inventata un'altra azionando queste levette posso decidere qual è il punto dove voglio che si ferme effettivamente il trigger se io voglio portarlo verso la fine ecco lì lo porto verso la fine rilascio la levetta e come vedete il trigger va fino quasi in fondo sblocco nuovamente tutto trigger al massimo voglio dargli una corsa leggermente maggiore levetta azionata ecco qui che vado a metà e come vedete il trigger si fermerà a metà in pratica posso decidere tra cinque posizioni quale corsa far fare al mio trigger come vedete questa è un'altra posizione ma vi faccio vedere la differenza magari con quello a sinistra questo l'ho portato praticamente in fondo mentre invece questo decido di farlo azionare un po' prima carina questa cosa ovviamente poi ho visto che c'è il software probabilmente anche per gestire l'input degli analogici e dei trigger e quindi fatta questa precisazione andiamo avanti con il resto sinceramente mi fa un po paura questo meccanismo mi sembra un po delicatino sento fare qualcosa di meccanico qui dentro un click come se ci fosse qualcosa ha tenuto a molla e le molle per questi meccanismi non sono mai la migliore scelta ad ogni modo anche questo bisognerà testarlo nel tempo per vedere se effettivamente riporterà qualche criticità alla durata del meccanismo guardate poi che bel invasone centrale ci infilo il ditone ma in realtà la cosa serve per andare a inserire la mia usb type c avere un innesto resistente che non mi vada a piegare lo spinotto non ci sono particolari forme alla forma rettangolare quindi con tutta probabilità anzi andiamo subito a provare se un altro cavo usb type c per caso ci andasse sicuramente ci andrà però vedete come in questo caso è ballerino perché la forma è sì rettangolare ma è più piccola dell'invaso ad ogni modo preferisco così in modo che se uno avesse esigenze rompesse non avesse il cavo può mettere comunque un altro cavo piuttosto che quelli che hanno la sagomatura proprietaria che impediscono l'inserimento appunto di cavi di terze parti qui davanti abbiamo bumper e trigger guardate i triggeroni che grossi che sono superficie texturizzata quindi antiscivolo ma anche la conformazione vedete spiovente qua permette l'alloggiamento del dito e sicuramente non vi scivolerà mai il dito dal tastone discreta anche la conformazione del bumper comunque molto raggiungibile carino anche il feedback del click sebbene sia un po' leggermente rumoroso guardavo poi se c'era qualche tasto digitale in realtà nulla è azionato in maniera digitale sono a membrana questi tasti andiamo un secondo a vedere le levette analogiche togliamo qua vediamo intanto che carino che è tutto trasparente la plastica qui sotto vado a togliere la mia levetta analogica beh l'analogico è un classico analogico quindi non c'è l'utilizzo ma non me lo aspettavo degli analogici quelli cinesi tutti in metallo orrendi che prestituiscono solitamente un feedback tremendo all'utilizzo e andando a prendere le due levette sostitutive come vi dicevo andiamo a vedere che l'altezza di quella convessa è la stessa di quella in default mentre invece questa qua è quella più lunga la vado un attimo a posizionare ovviamente operazioni molto molto semplici assolutamente da fare così sulle prime mi sembra come vi dicevo un po troppo lunga però ovviamente riferiamoci poi all'utilizzo in game queste sono cose assolutamente soggettive ragazzi ci sono quelli che amano avere la levetta molto più lunga io amo averla più lunga di quella in sinistra ma non di tanto vado a prendere un control freak originale dell'xbox per vedere se la dimensione di queste levette combacia quindi se sono applicabili ebbene sì vi confermo che qualora l'altezza di questa levetta non coincidesse con i vostri gusti potete andarla ulteriormente a personalizzarla inserendo dei control freak per il controller mi raccomando xbox riprendendo in mano un attimo il controller c'è ancora da vedere i tre tastoni in funzione dell'xbox esteticamente non combaciano con i miei gusti non mi piacciono ma ad ogni modo sono ben raggiungibili così come questo tasto che presumo sia quello per rimappare le palette posteriori dando un'occhiata alla croce direzionale come vedete ci sono dei simboletti probabilmente ci sarà qualche funzione richiamabile dallo spostamento di questa levetta poi leggerò le istruzioni non vorrei dire delle sciocchezze ma potrebbe anche essere una regolazione del volume magari in abbinamento con questo tasto ma ad ogni modo sto assolutamente inventando è la prima volta che prendo in mano questo controller per tutte le sue funzionalità e la descrizione la recensione completa vi rimando al mio prossimo video sempre parlando di croce direzionale c'è da segnalare la mancanza del perno centrale che è un sistema che serve per non schiacciare inadvertitamente più direzioni insieme ossia io ho un perno centrale cosa che qua non c'è quindi io posso schiacciare tutta la croce direzionale insieme e ovviamente schiacciandola insieme può capitare che vengano schiacciate tutte le direzioni o comunque più di una nello stesso tempo vi faccio vedere controller xbox alla mano che la croce direzionale in questo caso non è premibile nella porzione centrale questo perché hanno messo un perno per evitare il problema descritto prima in conclusione ragazzi volevo dirvi che io questo controller me lo aspettavo più plasticoso mi aspettavo una qualità più scadente è vero ragazzi che non stiamo parlando top materiali ma è anche vero che la sensazione in mano dal vivo non è quello di un controller economico alla fine della fiera ero sinceramente un po' prevenuto 99 euro mi sembravano troppi credevo fosse un controller assolutamente economico dal punto di vista materiali e progettuale sono rimasto direi stupito dalla quantità e dalla qualità delle cose all'interno della confezione quindi non faccio altro che nuovamente invitarvi a registrarvi al canale accendere la campanella in modo che poi quando farò la recensione del controller sapete che sono uno molto pignolo potrete vedere effettivamente se ma va convinto oppure no per oggi ragazzi è tutto io vi saluto ci vediamo alla prossima qui nella tiker e ciao